Sono Roberto Vestetti, sono restauratore, sono titolare d'impresa artigiano, mio laboratorio improprio a Gallarate. Sono anche vicepresidente del CESMAR7, un ente che si occupa di promuovere una mentalità più scientifica nel campo del restauro dei manufatti storico-artistici, dei beni mobili. Mi sono diplomato in restauro nei quinquenni abilitante all'Accademia Galli di Como, dove oggi insegno il restauro dei manufatti dipinti su supporto lineo 1 e 2. Un consiglio agli studenti è quello di studiare molto, studiare le lingue, studiare sui testi stranieri e proiettarsi verso esperienze internazionali.